Due milioni di euro per il nuovo piano operativo regionale 2019-2021 per ridurre le liste di attesa e assumere il nuovo personale. La situazione delle liste di attesa nelle ASL, come denunciato nei giorni scorsi più volte dai sindacati, rappresenta una vera e propria piaga, con disagi per i pazienti e difficoltà per le aziende. Così la regione Abruzzo ci mette una pezza. 5 sono gli obiettivi indicati e 22 le linee di intervento a cui dovranno adeguarsi le direzioni generali, con il coinvolgimento di tutti i professionisti. Entro 60 giorni dall'approvazione del piano regionale, le aziende dovranno adottare dunque un nuovo programma attuativo aziendale, dettagliando l'offerta. Dovranno pure prevedere un piano di miglioramento per le prestazioni cliniche. Le aziende saranno tenute ad aprire servizi di agnostice in maniera continuativa almeno 6 giorni a settimana, ottimizzando le risorse del personale presente. I paletti, ha detto l'assessore regionale Nicoletta Verì, sono ben precisi in quanto anche il direttore generale rischia la decadenza in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di liste di attesa. Intanto si stanno ascoltando in questi giorni i candidati per ricoprire i ruoli di manager ancora vacanti. Un momento importante e anche innovativo è la possibilità che il medico di famiglia, una volta fatta la prescrizione, il paziente seguirà una linea come CUP, se ci dovesse essere bisogno ci sarà un CUP di secondo livello, ossia sarà lo specialista stesso a prenotare per un'ulteriore visita. Per cui non ci sarà un accavallamento, un raddoppiarsi di queste liste ma si differenzierà sia per patologia sia per gravità e soprattutto primo e secondo livello. Le aziende saranno pure obbligate ad avere un registro unico in forma cartacea e informatica. Per migliorare il CUP è prevista l'obbligatorietà del back office dove ci sarà un CUP specialist per gestire le criticità anche dei call center. Disdette più agevoli poi entro 72 ore, pena pagare una penale. Per le prime visite c'è l'obbligatorietà da parte dei medici di stabilire la classe di priorità. Per il presidente della regione Marco Marsilio è molto importante recuperare anche la mobilità passiva riducendola e anche per questo c'è un piano.